Il Dignazio Marino è un criminale, per la vivisezione ha le mani sporche di sangue, è una persona che va buttata, calci nel culo fuori dal Parlamento e dal SEL, è una vergogna, è a favore della vivisezione, oggi lo fa gli animali, domani lo fa gli esseri umani, tutti i vivisettori sono assassini. Il Dignazio Marino è un assassino, nel 1992 ha ucciso un babuino e l'anestesia lui non l'adopera, vergogna, il Dignazio Marino è un assassino, ed è orgoglioso di quello che fa, è questo il peggio del peggio, è orgoglioso, non se ne vergogna nemmeno. Grazie a tutti!